Ciao caro programmatore e benvenuto all'interno di questo nuovo video. Allora, a grandissima richiesta ho voluto prendere un problema che ha avuto un ragazzo, un programmatore, e sono qui di fronte al T-Portal, adesso te lo condivido subito perché voglio andare proprio a mostrarti i passaggi che sono andato a eseguire per risolvere questo problema. Allora, anticipo qual è il problema. Innanzitutto, il programmatore vuole creare una funzione in modo tale che in base a un pulsante messo a pannello, quindi un teach, vadi a prendere una quota, un valore, e a spostarlo su una variabile. Ipotizziamo, quello che io sono andato a creare in questo preciso momento è poi un database con diversi pulsanti, da 1 a 10, attraverso un array molto semplice, poi ti mostro il database, e i valori che sarebbero le nostre quote di destinazione. Per esempio, se ho 10 quote diverse, ecco qui all'interno posso andare a mettere 10 quote che potrebbero poi andare a far muovere un asse e portarmelo a destinazione ovunque naturalmente io indichi in quota. Io per adesso ho messo dei numeri molto semplici, posso variare con quello che voglio, ho messo come variabile numero reale, cosicché se ho bisogno non solo di utilizzarlo per muovere degli assi, quindi andare a puntare su dei valori molto precisi, molto fini, quindi i numeri saranno abbastanza grandi e avrò bisogno di un doppio intero, ma se ho bisogno di fare lo stesso identico lavoro su un altro ambiente, un altro argomento e ho bisogno della virgola mobile, qui lo posso fare. Il bello di sfruttare la virgola mobile come uscita è che se io vado ad applicare come variabile di uscita al mio blocco un intero, un doppio intero, lui farà sempre la conversione implicita, quindi a me da mattina alla sera non cambia niente, fa tutto in automatico, quindi mi salvo su qualsiasi tipo di condizione voglio creare in futuro. L'obiettivo è questo, proprio creare una funzione che vada a trasferire il valore di ingresso sul valore di uscita. Ah, mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, qui è possibile di iscriverti, attiva la campanellina e metti un bellissimo like in modo tale che andiamo avanti con questo argomento e vediamo un po' come si svolge. La funzione è proprio questa, prendo l'ingresso, lo elaboro e lo do sull'uscita e attraverso un pulsante di teach vado proprio ad abilitare la funzione per permettere questa operazione. Il problema sostanziale qual è stato fin dall'inizio? Nonostante tutto, quando lui dava il teach, il valore si trasferiva, poi aveva un'altra funzione identica, premeva un altro teach, un altro valore e lo andava a implementare nella stessa variabile, qui ho fatto l'esempio di tre volte, quindi diversi teach, uno, due, tre, diversi valori di ingresso, quote diverse e la stessa identica uscita, quindi valore di ingresso, stati logici, valori diversi in ingresso e uno identico in uscita. Il problema è che quando premeva il primo, il secondo, il terzo e così via funzionava, a un certo punto poi non funziona più niente perché naturalmente ne preme uno e non funziona. Allora la domanda è stata come mai non funziona essendo che all'interno c'è una semplice operazione di trasferimento dati? Allora, quello che sono andato a creare io principalmente è stato proprio questo, quindi seguimi attentamente perché andiamo a vedere che cosa ho fatto. In primis sono andato a definire quali sono le variabili che mi servono per andare a sviluppare tutto ciò, ho ipotizzato di creare una DB che poi va a puntare sul pannello operatore, che riguardano le quote, quindi un array di booleani da 0 a 10 per fare il teach button, quindi l'insegnamento, l'apprendimento dell'azione, quindi il nostro trigger, dopodiché abbiamo 10 valori, adesso qua totale saranno 11, ma a me interessa lavorare dall'array numero 1 a numero 10, reali, quindi io posso utilizzare o no la virgola mobile se mi interessa, se non la voglio non c'è problema, ma non la utilizzo, tanto lui farà sempre la conversione, se deve fare la conversione, e dove metterò le mie quote? Infatti abbiamo la bellezza di questa predisposizione, qui verranno applicate le quote e l'uscita, l'uscita vedi che non ho messo array, ne ho messo soltanto 1 in modo tale che andiamo proprio a perseguire il problema e a risolverlo. Come retentività ho messo soltanto le ultime 2 perché tanto il teach spegne e accende il PLC, per esempio non mi interessa che il teach sia sempre attivo, poi naturalmente uno dipende cosa vuole fare, come vuole preimpostarlo, io l'ho tolto. Una volta che ho fatto, ho preparato la mia VAT con i teach button, i valori e il valore di uscita in modo tale che posso simulare molto velocemente e con molta facilità e ho fatto un test. Ti tiro via anzitutto questo, me ne copio uno. Il primo è stato proprio questo, chiamare 3 volte, scusami, chiamare 3 volte la funzione, andargli a mettere sull'enable direttamente il teach button, ognuno il suo, quindi la quota 1 ha il suo teach, quota 2 ha il suo teach, quota 3 ha il suo teach e per ognuno il suo valore, quindi valore 1, valore 2, valore 3, ok? Ma in uscita la stessa identica variabile, perché sappiamo tutti che deve andare a confluire sempre l'ultimo valore sulla variabile. Qualsiasi sia il pulsante che io vado a primere, tra uno di questi presenti, deve prendere il valore e portarlo in uscita, fine. E la variabile di uscita deve mantenere quel valore per tutto il tempo, anche se il pulsante viene rilasciato, quindi deve mantenere automaticamente. Com'è la funzione all'interno? Innanzitutto io non ho utilizzato un fb, ho direttamente utilizzato un fc, molto più semplice, non ho bisogno di db distanza che mi vengono creato automaticamente, soprattutto perché se io lo devo utilizzare 100 volte mi verrebbe da dire che poi si devono creare 100 db distanza, o che le vai allocare dentro un'altra fb, sono sempre 100 blocchetti da creare, o che tu vada a crearlo direttamente in una funzione e quindi me le va a mettere nel db globali del sistema, ecco che lì dopo ho 100 db che vengono utilizzate per questa funzione, però un po' pesante. Diciamo che possiamo anche evitare di fare questo patatrack. Quindi io qua direttamente ho fatto in value, valore finale in real sempre tutte e due, e un semplicissimo move, naturalmente poi dopo in base al lavoro che c'è da fare, uno questo blocco lo può modificare come meglio crede. E il ditch non lo sono andato a mettere come input, perché molto semplicemente l'fc cosa va a fare? C'è stato uno che ha detto giustamente ragazzi, prima di iniziare a scrivere software bisogna sapere come cicla PLC. E' vero, c'è molto ragione il ragazzo che ha detto questa frase, perché? Per quanto semplicemente l'fc a confronto l'fb si comporta in uscita in un modo particolare, che adesso lo affrontiamo molto velocemente, giusto per non andare a espandere l'argomento. Quello che succede è questo, che se io il trigger, il teach, lo metto come input e non sull'enable, quindi l'enable lo sposto, lo metto a linea, quindi diretto, filo diretto e l'enable lo metto qui, il teach lo metto qua. Quello che succede è che io quando vado a forzare, il problema è che l'fc va a resettare le sue variabili interne, inclusa il value finale, pertanto resettandole, perché l'fc proprio sappiamo che non si ricorda la mattina o la sera quando finisce il ciclo della sua funzione, ecco che qui va a resettarmi anche l'uscita. Pertanto, facendolo in quel modo, non funzionerà mai. Ecco perché conoscere come lavora la funzione e il ciclo della CPU non c'entra niente, concettualmente con quello che ha detto, ci releghiamo questo argomento perché c'entra più che altro come funziona l'fc. Ecco perché sono andato a mettere il teach direttamente sull'enable, perché io ho bisogno che quando abilito mi fai eseguire questa funzione, prendi la quota d'ingresso, me la metti in uscita, fine. Quando non ho il teach, tu questa parte non ci devi neanche entrare. Ecco, la parte più importante ragazzi da capire, del fatto che si, della potenzialità di mettere una condizione, un contatto aperto per esempio in questo caso sull'enable, è rischioso, bisogna starci attenti, non va fatto sempre, va fatto solo in alcuni momenti, quando si necessita, e che ci permette di saltare della logica di funzionamento e trovare delle soluzioni al nostro problema come in questo caso, ma evitarne anche degli altri di problemi. Come nel caso di prima che dicevo, e ve lo mostro anche, dai, se lo facciamo 5 secondi, lo facciamo insieme. Se mi seguite, allora io vado a trigger, facciamo così, teach, button, teach, ok, è un booleano, io lo vado a mettere qua, per esempio, nella funzione vado a dire, quando ho il teach prendi il valore e mettilo in uscita. Semplice, no? Giusto? Vado a richiamare tutte le funzioni, questo lo vado a mettere qua, adesso lo modifico velocemente, tiro via il contatto aperto, ecco qua, e questa è una funzione semplice, no? Quote e le fc sono sempre le stesse, quindi quando il teach è presente, prendi questo valore e lo mette qua. Quando questo è presente, prende il valore e lo mette qua. Adesso andiamo a vedere che cosa succede. Fatemi cancellare, non cancellare, no, voglio commentare tutta questa parte qua, in modo tale che non ci siano problemi durante il funzionamento. Su via, forza e coraggio, è questo, scusate. Ah, ok. Ctrl-S, Ctrl-L, invio. Andiamo a vederlo insieme. Online, online, problemi non ce ne sono, se no non sarebbe in run. È in run, perfetto. Abbiamo già le nostre quote, c'è il valore finale e partiamo dal primo. Abilito, il primo. Quello che succede è che qua il valore è 1 e qui è 0. Vediamo un po' la funzione. Teach dell'array 1 è a 1, il valore è a 1, c'è da metterlo a 1. Perfetto, vedete che già db e jmi quote, quote, out value sarebbe a 1, soltanto che in verità nella db è a 0. Vedete che c'è una differenza? C'è qualcosa che un po' puzza, ma soprattutto andate a vedere sotto. La stessa identica variabile vale 0. Quindi, quello che succede è questo. Il primo ci sta tentando e ci sta riuscendo, perché se io adesso vado a commentare variabile casaccio per mettere a ko queste funzioni, quello che succede è che la variabile è diventata 1. Quindi questo ci sta riuscendo a fare il suo lavoro. Quando inizio a tirar via, per esempio, questo contatto di bypass e ricarico, vedete che è andato a 0, vuol dire che la colpa è le successive funzioni. Ma non perché è sbagliata la logica. E fatto sta che la logica è corretta, ma come funziona un fc, per come viene richiamata, lo vediamo subito, andiamo online, per come viene richiamata, se non ho il teach, ok, quello che succede è che questo move non lavorerà, non porterà il 2 sull'uscita. Pertanto, layout, in questo caso il singolo out che abbiamo a disposizione, sarà 0, perché il suo valore di default è 0. Cioè l'fc va utilizzato come funziona di precalcolo, calcolo, ma deve continuamente ciclare. Se non vogliamo che cicli, dobbiamo interrompere la sua esistenza. E per farlo, molto semplicemente, mi metto qua e faccio questo lavoro. molto easy, dove trasporto il teach fuori, vado a togliere il teach dalla funzione, tolgo da qua, tolgo da qua, salvo, vengo qua, aggiorno gli accessi, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ctrl s, ctrl l, invio. Ecco, quello che succede è questo. Adesso ogni singola funzione lavora se il teach è premuto, se non lavora è perché il teach non è premuto, come in questo caso, in questo caso, ma vedete che la funzione sta saltando, quindi qui il problema non persiste. Andiamola a provare. Resetto, accendo la numero 4. Guardate cosa succede, tac, la numero 4 non me lo fa modificare, perché molto semplicemente, perché io ho messo 3 blocchi e basta, non ho messo il quarto, il quinto, il sesto. E quindi dovrei andare a creare tutti gli altri, ma prima di andarlo a fare, andiamo a vedere, 3, resetto, 2, resetto. Vedete che il valore rimane memorizzato anche se io vado a resettare il teach. Quindi abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Ma ora la domanda da porsi è, devo per forza fare 10 funzioni? Sì, se lo voglio fare in cop, sei costretto a fare in questo modo, oppure potremmo utilizzare un po' di linguaggio intelligente, prendere una bellissima logica semplice, iniziarà a creare col for e l'if un puntatore, in modo tale che, ciclico, da 1 a 10, quindi partirà da 1, andrà verso il decimo, da 1 a 10, andrà a vedere se ogni singolo array partirà dalla 1, controllerà se il teach è premuto oppure no, se è premuto esegue la funzione, se non è premuto non esegue la funzione. Ok, puliamo qua, aggiorniamo, ok, quindi se premo esegui la funzione, se non premo vai fuori, ctrl-s, ctrl-l, invio. Eccoci qua. Allora noi guardiamo a sinistra, perché qua a destra, sì, possiamo vedere un po' di roba, però non è tanto facile, essendo questo ciclico, essendo troppo veloce, non abbiamo tempo, e soprattutto il tiaporta non ci mostrarà neanche i valori che vengono fuori. Azioniamo il primo, 1. Azioniamo il secondo, 2. Azioniamo il terzo, 3. Voi guardate qua, eh ragazzi, io devo andare a cliccare per forza. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi mi metto anche qua a casaccio, 6, 3, giusto, 9, perfetto. Ho le 4, 5, 3. Ok, vedete? Questo è il risultato con una semplice funzione, che poi alla fine è solo un move, potrei anche evitare di creare la funzione. E un semplice for, io ho fatto la stessa identica cosa, ora ne ho fatte solo 10. Se ne ho 100, sta di fatto che io qui nella mia DB devo andare a mettere 100, e qui devo solo mettere 100. Quindi vengo qua, DB, invece di 10, vado a metterci, apriamo un po' questo campo qua. CTRL-S, CTRL-S, CTRL-L, e inizializzazione perché, poverino, sono andato a ridere il male. E io adesso ho a disposizione 100 quote, 100 pulsanti, una sola uscita. vedete, 100 pulsanti, da poter utilizzare, 100 quote, da poter utilizzare. Naturalmente, adesso dovrei mettermi qua, e scriverle tutte 100, poi andare a pannello, farle tutti e 100, 100 pulsanti, 100 quote, e una quota finale. ma sarebbe un po' lunga, però abbiamo già capito che con 10 funziona, quindi si presuppone che da fino a 100 funziona. Naturalmente, bisogna stare attenti un attimino con i puntatori, non andiamo a scrivere dei numeri che non esistono, perché se no, non funziona. Ragazzi, questo è quanto, per andare a creare una funzione del genere, si potrebbero utilizzare altre funzioni che esistono già, tipo mux, demux e quant'altro, per utilizzare questi trasferimenti di dati in maniera veloce, e si può fare anche con degli array e soprattutto con dei puntatori come questo qua del for. Ma soprattutto io utilizzerei una cosa del genere, invece che una funzione, se mi vado a creare un piccolo scriptino del genere, naturalmente io in scl il move non esiste, lo posso utilizzare in coppa, però a sua volta io posso far sì che la quota finale sia uguale alla quota presente in array in questo modo. Questo lo posso, facciamo che lo commento, così l'avete tutto sotto mano, ok, andiamo a vedere se funziona. Visto che la funzione all'interno c'è solo il move, me lo porto fuori, faccio prima, allora, forziamo le quote, così ci sono tutte, vedete, 1, 7, 4, perfetto, funziona alla grande. Tac, quindi abbiamo ottenuto lo stesso identico risultato scrivendo una funzione in meno, quindi io questa funzione di fc2 la posso totalmente depennare e lavorare solo con questa modalità. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, innanzitutto mettete un like, vi iscrivetevi, attivate la campanina, perché ogni singolo giorno andiamo a vedere qualcosa di nuovo e se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, oltre a queste lezioni che faremo qui insieme, per tutti voi che stanno apprendendo la programmazione PLC e partendo totalmente da zero, avete la possibilità qui in descrizione di andare a iscrivervi per ottenere altre video lezioni totalmente gratuite o un po' più riservate che non vado a mettere qui direttamente sui nostri canali social. Ragazzi, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo problema. Ciao!